Per la prima volta a Border Knights, Riccardo Tristano Tuis, benvenuto! Grazie Fabio, grazie. Grazie a te, grazie a te di essere qua con noi. Allora, lo conoscete tutti, insomma, ricercatore poliedrico, magari parleremo anche un po' di musica se lo vorrai poi dopo. Ma, regga, tu c'è soprattutto da questo volume, che è uscito per uno, l'aristocrazia nera, la storia occulta dell'elite che da secoli controlla la guerra, il culto, la cultura e l'economia. E tra l'altro in questi giorni, credo proprio, almeno io l'ho letto in questi giorni, effettivamente un articolo di qualche giorno fa, è uscito questa cosa che, ad esempio, a Firenze la ricchezza in mano alle stesse famiglie addirittura dal 1427, è stata pubblicata anche nel Sole 24 ore questa notizia, quindi qui si parla ovviamente solo della parte, diciamo, economica, però non è una visione quindi solo dei complottisti, no? Che alcune famiglie hanno in mano i soldi e quindi hanno in mano il potere. Sì, 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 assolutamente sì, ne tratto nel mio libro l'aristocrazia nera proprio anche di queste famiglie, famiglie fiorentine, famiglie veneziane che si sono un po' spostate nel corso dei secoli, hanno preso un po' in mano l'Europa e poi il Nord America e anche se ai giorni nostri molte di queste famiglie hanno nomi tedeschi o inglesi barra americani, in realtà trattasi di famiglie che inizialmente la loro fortuna ha avuto origine proprio qui nella penisola italica. Sì, sì, sono famiglie spesso sconosciute, nomi che non dicono nulla alla maggior parte delle persone, ma in realtà sono, come dire, i grandi burattinai dell'economia dei giorni nostri. Poi magari dopo approfondiremo meglio l'argomento. Ecco, quindi diciamo che il potere anche in tempi moderni si è tramandato di famiglia in famiglia, come accadeva una volta, solo che nessuno ci fa più caso. Sì, si è tramandato e più che altro si sono fusi diversi poteri, diversi clan, diverse tribù si sono fuse, gli aristocratici di un tempo non ci sono più, si sono in qualche modo fusi con un altro gruppo, tra virgolette, di aristocratici. Non ci sono più dei ceppi completamente originali. Faccio un esempio. Adesso, in tempi recenti, la maggior parte degli scrittori, dei ricercatori, tendono a puntare il dito sulla famiglia Rothschild, che è una famiglia molto potente di banchieri, ma che non è il vertice di questa catena piramidale. E questi signori, comunque, la loro fortuna la si deve a un connubio con il Vaticano e con alcune famiglie reali con cui si sono in qualche modo confluite le famiglie originarie dei Rothschild, che avevano altri nomi a quei tempi. Pertanto, le famiglie che detengono il potere sono la fusione di gruppi diversi di individui, quelli più prettamente bancari e commerciali e quelli prettamente elitari dei reali europei. Nel corso dei secoli si sono fusi e si è creato queste famiglie ibride che sono al vertice del potere mondiale, dell'economia mondiale. Tu la chiami l'aristocrazia nera, nel senso che dietro queste famiglie c'è anche una ritualità, diciamo, esoterica, negativa? Sì, beh, l'aristocrazia nera, il termine ha molte valenze. Diciamo che una delle valenze dipende anche dal fatto che queste famiglie portano avanti un proprio culto che è abbastanza cruento. È un po' un antico culto che ha avuto diversi nomi in varie epoche. Diciamo che in tempi recenti viene definito come satanismo, ma è un termine troppo vago. In realtà dovremmo chiamarlo saturnismo o comunque un culto legato a una divinità che necessita di sacrifici umani. Almeno così lo raccontano gli aderenti a questi culti così estremi. Questi personaggi di facciata ovviamente si presentano come persone ateo o cristiani, timorati di Dio, o con un'impostazione prettamente scientifica, mentre in realtà dietro le quinte continuano a praticare un culto millenario che possiamo trovare traccia dai tempi dell'antica Sumer. Hai citato i sacrifici. Secondo te ancora oggi con modalità ovviamente diverse, ma viene portata avanti anche oggi questa pratica? Sì, oggi più che mai. Nel senso non ha mai smesso. Il sacrificio umano è una parte integrante dell'affermamentis religiosa. Di fatto ne troviamo tracce già nell'Antico Testamento che non è altro che una vestigia di culti ancora più antichi. In tempi moderni troviamo diversi culti che praticano queste ritualistiche con l'impiego di animali o di umani. Nello specifico tendono a scegliere bambini o donne. È una pratica purtroppo tuttora in uso e la si può notare anche dai numeri di scomparsi presenti in Europa o negli Stati Uniti d'America. Ci sono molte gole profonde che lavorano all'interno di alcune basi americane che hanno denunciato questa cosa che ci sono proprio dei gruppi all'interno dei servizi segreti, dei militari che hanno il compito di procurare il materiale umano per compiere determinate ritualistiche o per impiegarli per determinati sperimenti di vario ordine. È un tema molto oscuro. Siamo entrati un po' su temi alquanto pesantucci. Subito così. Diciamo che nel mio libro comunque l'Aistocrazia Nera è un libro prettamente storico, un saggio storico, un revisionismo storico con una impronta anche scientifica perché è tratto l'argomento dei campi mentali che è un argomento importantissimo per comprendere la storia, la metastoria, la psicostoria. Ci sono tanti termini per addentrarci nel nostro passato e per leggere la storia in una maniera più approfondita. Diciamo che la storia si scrive in base a determinati copioni. Questi copioni ci sono delle persone che hanno, come esempio l'Aistocrazia Nera, che hanno certamente un ruolo primario e importante, però ci sono altri fattori che dobbiamo prendere in considerazione e nel mio libro lo spiego impiegando dei concetti prettamente della fisica. Infatti parlo del cosiddetto campo di cui in qualche modo la forma mentis di questi signori è in qualche modo inglobata all'interno di un campo informatico che determina il modo superandi all'interno delle società umane e all'interno di determinati individui. Diciamo che quando parliamo del comportamento umano c'è di mezzo un qualcos'altro che esula dall'aspetto più materico o prettamente storico. In questo libro accenno vagamente perché comunque sono concetti diciamo un po' complessi se non si studiano in neuroscienze o fisica, ma sono importanti per far comprendere determinati eventi, determinati movimenti all'interno della società. Questo schema quindi di cui parli, cioè questi appartenenti a queste famiglie è come se fossero, non so se usare il termine, manipolati in partenza, ma il loro percorso è definito all'interno di questo campo. Sì, sì, sì. Dovevo tenere il conto che nell'esoterismo si è impiegato il termine di egregora, immagino che tu l'abbia già sentito più volte. Spesso determinate persone che studiano fenomeni in qualche modo associabili all'esoterismo impiegano il termine egregora. È un modo più esoterico per definire quello che io chiamo campo. e di fatto comunque lo studio delle gregore già con i martinisti già negli anni 60 hanno cominciato a fare uno studio più approfondito impiegando proprio ricerche in ambito della fisica. E parlo anche di questo perché l'aristocrazia nera pur essendo schiava di determinati campi è in qualche modo in prima linea nella ricerca nello studio di questi campi. Faccio un esempio specifico tra scienziati che in qualche modo portano avanti questa ricerca troviamo niente meno che elementi di spicco all'interno dell'estocrazia nera. E nello specifico parlo della famiglia Warburg e della famiglia Rothschild. Non dobbiamo dimenticarci che quando parliamo dell'aristocrazia nera stiamo parlando di un'elite che è estremamente inserita nel campo delle scienze. Di fatto troviamo anche dei Nobel all'interno di queste famiglie e sono persone che hanno una studiano approfonditamente le scienze le neuroscienze perché per loro è importantissimo il controllo mentale e applicano la scienza al fine di modellare la realtà al loro piacimento o quello che loro credono sia il loro piacimento il loro volere. L'argomento è estremamente complesso ma penso di aver già un po' dato sentore degli studi che ho portato avanti su questo campo che sono decisamente estremi per chi non è addentro a determinate tematiche. Allora intanto ricordiamo l'indirizzo email border nights chiocciolawebradionetwork.eu per inviare le proprie domande siamo ovviamente come al solito anche sul gruppo facebook nostro border nights a questo proposito Pat ti chiede in questa tua rappresentazione dove e come collochi massoneria e cosa croce? allora diciamo che ci sono la istocrazia nera impiega tre livelli di comunicazione il primo lavora in maniera esoterica ed è rappresentato dalla religione dalle religioni le religioni sono in mano a determinate famiglie che gestiscono anche il potere economico poi c'è un secondo livello il livello mesoterico dove troviamo la massoneria ordini cavallereschi rosa croce eccetera poi ci sono un terzo livello dove ci sono le elite i gruppi più più addentro a determinate conoscenze e pertanto la massoneria come dire è una sorta di porta per entrare in qualcosa di più profondo diciamo che comunque non è un ordine iniziatico è un po' un come dire una piccola porta che svela poco o niente rispetto a altri ordini altri gruppi che approfondiscono in maniera molto più complessa determinate tematiche che volgarmente definiamo esoteriche ok a proposito di culti mi ha colpito il quarto capitolo del tuo libro Genesi dei culti dell'aristocrazia nera perché poi qui vengono elencati scientologi la chiesa di Gesù i testimoni di Geo la soca caccai il re e anche religiosi sì ci sono alcuni punti alcuni elementi in comune visto che abbiamo citato la massoneria uno degli elementi in comune è la massoneria stessa spesso i fondatori esempio i testimoni di Geova i mormoni scientologi appartenevano alla massoneria o a gruppi paramassonici anche nel soca caccai o nel reiki comunque ci sono delle infiltrazioni e in qualche modo si è portato questi culti sono stati portati avanti da appartenenti alla massoneria o a loggie affiliate gruppi affiliati ci sono moltissime moltissime correlazioni tra i diversi culti che apparentemente sono slegati tra loro perché se parliamo dei mormoni e dei testimoni di Geova possiamo in qualche modo incasellarli all'interno dei culti emergenti di matrice cristiana tra di loro sembrano che ci sono delle affinità si notano però se cominciamo a studiarle più approfonditamente scopriamo che ci sono elementi di entrambi che appartengono propriamente alla massoneria dalla ritualistica all'impiego di determinati oggetti eccetera simboli eccetera eccetera troviamo la firma culta della massoneria poi ci sono altri gruppi che sembrano slegati come ad esempio i raeliani o scientologi o altri gruppi ancora ma rimeno famosi che in realtà hanno dei punti di collegamento con gli altri culti in questo caso c'è sempre dietro la massoneria o ci sono dietro i come dire i buratinai dietro la massoneria ovvero i gesuiti spesso una cosa che ho notato e segnalo nel mio libro è che i vertici di questi culti hanno avuto delle onoreficenze da parte degli stati tra cui anche lo stato italiano che in qualche modo incasellano il soggetto all'interno di una rete con una determinata funzione quando una persona incomincia a ricevere onoreficenze da parte dello stato qualsiasi stato dobbiamo incominciare a sentire che qualcosa non va un sentore che c'è qualcosa che non va di fatto quando mi sono accorto di questa cosa ho incominciato a studiare più approfonditamente i fondatori di questi nuovi culti ho trovato tutta una serie di come chiamarle orme seminascoste che portavano in un'unica fondamentale direzione che è quella dell'aristocrazia nera quella di una serie di famiglie che stanno gestendo dagli Stati Uniti o dall'Europa un po' i culti emergenti presenti in Europa Stati Uniti Sud America ed Asia almeno una parte dell'Asia ci sono il quarto capitolo alla fine è un'infarinatura di questa connessione tra i diversi gruppi anche con la New Age con i culti ufologici c'è un tratto comune tra tutte queste diverse sfaccettature della forma mentis religiosa quindi in sostanza anche citato adesso l'ufologia c'è stata un'infiltrazione a parte oltre che dell'ufologia della New Age diciamo anche di fenomeni che tendenzialmente o inizialmente magari erano nati anche con buoni scopi sono stati infiltrati a logovolta quindi non si distingue più diciamo il buono dal cattivo sì sì ci sono state infiltrazioni più che altro spesso sono partiti con fini oscuri fin dall'inizio faccio un esempio la meditazione trascendentale con Marishi Manesh Yogi che in qualche modo ancora i giorni nostri è considerato una persona di spessore un guru un maestro eccetera eccetera in realtà questo signore era tutto tranne che un un maestro almeno per come intendiamo noi con questo termine infatti non a caso la 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 sede inglese dove Marishi si spostò dall'India per portare la meditazione per presentare la meditazione come la intendeva lui nel mondo nell'occidente la sua sede incredibilmente è stata all'interno di un castello appartenuto ai Rothschild nonostante una denuncia da parte di Mia Farrow per stupro nei suoi confronti la fuoriuscita dalla sua cerchia da parte dei Beatles in qualche modo denunciando tra virgolette questa figura ambigua la a livello generale la meditazione trascendentale è ancora vista di buon occhio un'altra cosa un altro culto che è ancora visto tendenzialmente di buon occhio è il Sogagakkai questo gruppo parabuddista che in qualche modo il Dalai Lama si discosta e non lo considera buddismo è visto come un movimento positivo in realtà se andiamo a studiare andiamo a vedere il fondatore e i vertici di questo culto scopriamo che hanno degli agganci politici non solo con i vertici del Giappone ma anche con gli Stati Uniti d'America con determinate famiglie se incominciamo a scavare troviamo scheletri nell'armadio bene o male in buona parte dei culti emergenti di fatto il successo di un culto come ad esempio è stato per i Scientology dipende dal fatto che c'è o per i testimoni di Geo per fare un caso eclatante che è stato finanziato direttamente dai Rockefeller dai Rothschild e dai Barbur si può notare quando un culto incomincia ad avere successo prende piede o se ne parla significa che c'è qualcuno dietro che sta finanziando il gruppo affinché faccia nuovi proseriti di modo da in qualche modo prendere le menti le menti umane e portarle in determinate direzioni non ha importanza se credi in Cristo se credi nel Buddha se credi in El Rnabar se credi in Ramta eccetera eccetera lo scopo è creare una una popolazione di pecore che in qualche modo vanno indirizzate in specifiche strade per portare la realtà la nostra attuale realtà in una direzione prestabilita le religioni sono sicuramente lo strumento principe degli ingegneri sociali non c'è niente di meglio della della religione per controllare le masse e per questo gli ingegneri sociali dietro ovviamente all'aristocrazia nera stanno investendo tanto tantissimo tempo e denaro per portare quante più persone possibili all'interno di qualche forma di culto e per le persone che sono non hanno una forma mentis che in qualche modo possono essere agganciate al culti tra virgolette spirituali ecco che viene impiegata la tecnologia e c'è una nuova e pericolosissima forma di culto che è il culto alla tecnologia il culto ai cellulari il culto ai videogiochi il culto ha tutta quella serie di orpelli che portano l'attenzione dei soggetti anziché dentro loro stessi al di fuori di loro al fine di disconnetterli dalla realtà da quello che sta accadendo sono una sorta di paradisi artificiali con cui portare le persone e da lì ad esempio attraverso i videogiochi c'è tutta una programmazione subliminale e non subliminale per indirizzare le persone verso un modo di vedere la realtà specifico un'altra ingegnerizzazione sociale potentissima diciamo quasi ai livelli della religione è la musica la musica è quell'arte barra scienza perché la musica non è solo un'arte è una scienza si basa sulla geometria e sulla matematica né più né meno e grazie al fatto che le onde acustiche influenzano sono come dire l'input ambientale che più di ogni altro influenza il cervello umano proprio perché il suono lavora sulla stessa banda di frequenza delle nostre cellule neurali infatti le nostre cellule neurali viaggiano vibrano e comunicano tra i suoni e gli infrasuoni pertanto la musica è stato un altro strumento importantissimo per il controllo sociale ed è in qualche modo diventata la musica è la militarizzazione della attraverso l'arma silenziosa del suono per portare le nuove generazioni in una specifica direzione visto che hai citato perché è un tema di cui nessuno sia vittima che però mi piace anche osservarlo parlo della tecnologia vittima nel senso che ovviamente come anche adesso stiamo parlando alla fine attraverso la tecnologia però mi rendo conto l'ho detto tante volte che anche non volendo siamo un po' ipnotizzati dall'iPhone dallo smartphone eccetera creando false priorità perché una volta ovviamente non ce ne sarebbe fregato di nulla sapere cosa ha detto uno cosa ha detto l'altro adesso siamo sempre a vedere ma c'è la notifica non c'è la notifica e quello che mi chiedo io è se dietro tutto questo alla fine era proprio un disegno voluto oppure diciamo se ne sono resi conto in un secondo momento che in prima battuta era un business in seconda battuta era una grande arma di ipnosi collettiva sì domanda legittima un po' entrambe le cose diciamo che sono la tecnologia è sorta in ambito prettamente militare l'attuale tecnologia che c'è in commercio a livello civile in realtà proviene da ricerche universitarie per lo più americane ma non solo che in qualche modo sono legate al ministero della difesa e a determinati gruppi privati e per uso militare non solo internet ad esempio faccio un esempio il Pentium che è uscito negli anni 90 qualcosa per uso civile in realtà era un elemento impiegato in ambito militare 25-30 anni prima da determinati determinati gruppi dei militari perché dobbiamo fare un distinto ci sono vari livelli di militarizzazione di tecnologia militare alcuna è obsoleta e altra è molto avanzata adesso ad esempio noi abbiamo una computer molto veloce rispetto a 15-20 anni fa ma sono niente rispetto alla tecnologia presente nel DARPA in questo organismo americano che usa la tecnologia in maniera estremamente avanzata e i loro computer lavorano a qubit cioè a bit quantistici hanno una processione di calcolo impressionante riescono a fare in qualche modo previsioni del futuro riescono a stabilire le mosse in anticipo perché in base ai nomi alle parole digitalizzate nei computer ci sono tutta una serie di strumenti per fare una radiografia istantanea del campo collettivo mentale umano per stabilire le mosse che devono fare questa tecnologia non usa più chip al silicio ma usa tecnologia con DNA artificiale DNA sintetico si chiama sono praticamente se abbiamo visto la serie Star Trek sono elementi organici con elementi tecnologici e questi computer sono tra virgolette umani nel senso impiegano materiale umano per potenziare gli effetti perché fanno tutto questo perché impiegano questa tecnologia costosissima per cercare di portare l'umanità in una determinata direzione perché questi signori hanno una fottuta paura di perdere il loro potere tenete conto che un singolo cervello umano è una è un generatore di eventi casuali e non casuali nel senso un cervello umano è in grado di far collassare la funzione d'onda della realtà nel senso che non solo riesce a stabilire il collasso di un singolo di una singola particella ma riesce a collassare eventi il fatto che migliaia o milioni di persone hanno una determinata visione della realtà o hanno determinati pensieri loro stanno in quel momento modellando la realtà in una specifica direzione se gli esseri umani incominciano a risvegliarsi incominciano a ricevere determinate informazioni il campo mentale collettivo e i pensieri generati andranno a modificare la funzione d'onda con cui si struttura la realtà l'onda pilota per usare il termine di l'aslo con cui gli eventi si modelleranno andranno a crearsi nel nostro immediato futuro per cercare di qualche modo bloccare l'irreparabile ovvero sia l'evoluzione umana l'evoluzione del pensiero umano della formulazione dei pensieri stanno impiegando della tecnologia avanzatissima che in qualche modo equilibri la quantità di cervelli umani che hanno il potere di creare la storia ma in questo momento non lo stanno più di tanto facendo perché poche elittarie famiglie detengono un corpus di sapienze occultamente nascosto all'interno dell'università di tutto il mondo tant'è che quando mi metto a parlare anche con professori universitari in ambito di neuroscienze determinate informazioni non sono a conoscenza perché nonostante magari facciano i professori e nonostante si aggiornino perché sono informazioni di difficile reperibilità e sono talmente scomode che si fanno di tutto per cercare di censurarle perché un po' alla volta le persone si incominciano a rilasciare se il muro di gomma che è stato costruito incomincia ad avere troppe falle le persone incominciano a unire i puntini sulle i incominciano a farsi una mappa della realtà un po' più complessa un po' più avanzata e incominciano a comprendere come funziona la realtà come funziona la loro mente come funziona la loro vita e se accade questo in maniera massiva con un numero sufficiente di persone per loro è la fine e in pochissimo tempo il loro millenario impero cadrebbe in un suo giorno e per questo stanno facendo di tutto per cercare di fermare o frenare l'evoluzione umana per chi ogni tanto alcuni lettori mi scrivono che dopo aver letto il libro hanno una visione molto pessimistica si rendono conto di tutta la manipolazione che c'è non possiamo farci niente siamo in balia di questi individui eccetera in realtà non è così in realtà basta veramente un attimo basta informare le persone basta dagli determinati semi determinati memi che si non sono altro che concetti pensieri che si autopropagano da mente a mente teniamo conto che la mente umana non c'è bisogno che io comunico verbalmente alle altre persone c'è una comunicazione sottile c'è un internet fisico e un internet sottile quell'internet sottile in qualche modo ci fa comunicare il nostro inconscio comunica a tutti gli altri inconsci della popolazione umana e abbiamo accesso a determinate informazioni il problema è che dobbiamo in qualche modo portare al conscio determinate informazioni affinché si apra il vaso di Pandora e per questo che in questo momento c'è ancora bisogno di fare comunicazione verbale comunicazione attraverso i libri per portare le persone fino a una determinata soglia poi non ci sarà più bisogno dei relatori non ci sarà più bisogno di scrittori di persone che denunciano perché si sarà inestato quell'effetto domino che ci porterà a un'espansione della consapevolezza che questi signori non usciranno più a fermare e pertanto il nostro futuro può essere estremamente erosio dipende dalla nostra scelte che facciamo nel nostro immediato futuro ecco qui c'è stato un punto di contatto con la visione insomma molto paradisiaca di prima che non credo abbia ascoltato di Silvano Agosti che diceva che tra 30 anni insomma ci sarebbe un sistema molto diverso da quello attuale ecco diciamo questa previsione ci auguriamo insomma che sia vero e poi ognuno la esprime ovviamente come meglio crede è una previsione nel senso che ci sono vari split di vari potenziali uno è questo diciamo ci possono essere anche quegli oscuri ma è un buon potenziale non è da sottovalutare e non è da avere una visione cupa del nostro futuro certo è che bisogna bisogna informare le persone bisogna darsi da fare ognuno di noi un lettore non ci sono solo i relatori sono alcune persone che in qualche modo fanno da riete e si scontrano con il sistema c'è bisogno del lavoro di tutti c'è bisogno del supporto di tutti allora volevo il supporto appunto anche di Paolo Franceschietti che dovrebbe averci ascoltato appena accende il suo microfono potrà essere con noi Paolo vediamo se lo recuperiamo sì io lo vedo collegato Paolo ci senti solito momento tutte le settimane così non ti preoccupare perché è che sbaglia il bottone la cosa vediamo se si materializza o se le rivelazioni sulla socca che cai l'hanno definitivamente va bene insomma Paolo quando sei incomodo sarai andato a mangiare non lo so a mezzanotte e un quarto arriva un po' un po' di fame allora comunque quando poi ci ascolti interrompici pure ah ci sei senti qua tu stavi arrivando dalla cucina quanto meno dove sei stavo dormendo addirittura stavo dormendo sei chiamato un po' col piatone in realtà ho sentito tutto oggi è stata una giornata particolarmente pesante quindi prima con Silvano Agosti non riusciamo a interroquire adesso mi sono appisolato un po' sul letto insomma comunque ho sentito tutto anche la cosa sulla socca che accade allora bene e dici ecco dici magari di quella parte o di altre quelle che insomma ti hanno colpito di più se vuoi dica la tua insomma ma parlo solo della parte mia della cosa ma ci ho pensato se intervenire o no no perché la socca è la la società a cui sono cioè l'organizzazione a cui sono affiliato però ora siccome in linea di massima condivido il discorso che ha fatto insomma mi piacciono le ricerche di Riccardo ho il suo libro e me lo sono letto e se contestassi questa parte qua sembra che poi uno contesta tutto ma non è così insomma c'era diciamo un po' un'imprecisione forse cioè il fondatore della socca dice che c'ha ganci con la mazzoneria e questo è vero ma non è il fondatore cioè sono i tre ultimi maestri della socca e Akkai anzi in particolare l'ultimo poi perché il penultimo e il terzo ultimo Toda e Makikuchi credo che non c'entrasse proprio niente con la socca e cioè scusa con la nobiltà nera e sì l'ultimo sì ma stiamo parlando di un'organizzazione che c'è di una di un buddismo che nasce nel 1200 ad opera di un monaco che io non credo che avesse questi agganci se poi dalle sue ricerche risulta che ci sono magari può essere pure però insomma mi pare che no 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 io mi rifaccio a Makikuchi dal mio punto di vista il suo kakai nasce nel 1930 se poi dopo lo fanno passare nel passato un po' come i scientologi che dicono che praticamente i scientologi non è altro che l'ordine del serpente egizio è un altro discorso ma qui sfocciamo nel mito sfocciamo in una serie di elementi che non sono non è facile non sono di facile reperibilità nel senso lo chiamo mito perché come si può dimostrare che è stata fondata nel 1200 nel 1300 nel 1400 no aspetta non la so kakai allora il buddismo nasce con Buddha poi una delle diramazioni del buddismo ci sono tanti buddismi uno è quello di Nichiren e nasce nel 1200 la so kakakai è una delle tante organizzazioni che si rifanno al buddismo di Nichiren c'è la Nichiren Shu c'è la Nichiren Shoshu c'è in questo senso ok quindi il discorso generale è vero ma non è diciamo la so kakai nulla a che vedere con o meglio i ultimi diciamo capi della so kakakai nulla a che vedere con con Nichiren Daishonin e col buddismo poi anche in generale cioè sono solo persone che hanno diffuso il buddismo in una particolare forma ma come dire è un po' come confondere la chiesa cattolica con Cristo cioè sono due cose diverse insomma oppure i testimoni di Geova con con Cristo cioè quelle sono organizzazioni che date dall'uomo sì però il so kakakai non è in ambito il Dalai Lama non l'ha riconosciuto pertanto il so kakai nel momento in cui si presenta come buddismo i buddisti stessi denunciano la cosa come non vera è altrettanto vero che comunque anche il Dalai Lama non è ben visto da alcuni gruppi buddisti perché il buddismo tibetano non è in realtà vero buddismo è Lamaismo con influenze Bon ci sono varie interpretazioni ognuno dice la sua diciamo che comunque il buddismo ormai è stato in qualche modo corrotto nel corso dei secoli perfino all'interno delle scuole zen che sono le più dove si sono trincerati all'interno di un in qualche modo dell'antica tradizione perfino loro hanno perso alcuni alcuni pezzi nel corso dei secoli diciamo che il Sogakai ha elementi interessanti come ce li ha anche in Scientology anche in Scientology ci sono elementi interessanti certamente e sicuramente nel Sogakai come in Scientology c'è veramente brava gente però bisogna fare un distinto fra le brave persone all'interno che mandano avanti un movimento e creano il buon nome di quel movimento e i vertici che in realtà sono persone corrotte un caso lampante è il movimento di Osho che ai vertici avevano delle persone che erano collegate a giri di droga a giri di armi i concetti determinati concetti sono interessanti sono buoni sono utili altri un po' meno perché nel momento in cui ci si rifà determinati aggregone millenari che in realtà hanno funzioni di accorporamento delle menti umane ecco che anche perfino il buddismo che tieni conto che io sono un po' simpatizzante del buddismo porta con sé degli elementi negativi ciò non toglie che all'interno del Sogakai c'è gente che ci crede c'è gente che fa del bene come in molti altri movimenti sto dicendo che i vertici sono corrotti i vertici e per vertici intendo tutta la serie di personaggi che da un certo momento storico hanno preso le redini di questi lucrosi movimenti perché sono diventati delle holdings sono diventati delle multinazionali con cui si fanno moltissimi soldi beh nel caso della Sogakai i soldi non li hanno fatti grazie al movimento perché Ikeda ha proprio una banca quindi i soldi li stampava lui li stampa lui sostanzialmente quindi certo ci hanno le offerte dei fedeli ma quelle sono minima cosa rispetto alla grandiosa quantità di soldi che è una cosa esagerata che può muovere Ikeda stesso insomma e che ha mosso per creare questa organizzazione insomma non è lucrosa l'organizzazione in sé diciamo che probabilmente nel sì è vero nel caso del Sogakai è più marginale l'aspetto economico le denunce che ha che ha avuto Ikeda sono il fatto che ha usato questo movimento per aumentare il proprio potere il culto alla sua persona sono queste un po' le denunce fatte dagli esterni o dagli interni dagli ex appartenenti che hanno denunciato questa cosa poi ciò non toglie che alcuni concetti sono buoni ma non serve scusa Riccardo ti interrompo un attimo perché voglio cioè in realtà la pensiamo allo stesso modo io non ho mai negato le cose anzi sono andato molto oltre perché ho individuato proprio il punto di corruzione di un certo vertice della Sogakai nel momento in cui è stato fondato la banca in cui è stato fatto una sorta di patto col diavolo cioè sostanzialmente al fine di accrescere il potere della Sogakai e diffondere nel mondo hanno permesso a Ikeda di costituire una banca che è il fulcro poi della corruzione di qualsiasi cosa almeno per come le banche in occidente sono concepite hanno fondato pure un partito quindi sono una vera e propria forza politica in Giappone quindi non discuto tutte le accuse che si fanno però quando parlo con l'interlocutore mi piacerebbe capire il suo punto di partenza perché distruggere qualcosa siamo capaci tutti quindi c'è Biglino che distrugge la Bibbia e adesso ha cominciato a distruggere il nuovo restamento possiamo distruggere il buddismo così come oggi a distruggere il Vaticano non ci vuole niente perché insomma si distrugge da solo con quello che fa distruggere la massoneria per carità io sono uno dei primi che insomma ho fatto dieci articoli sull'omicidio massonico distruggiamo pure la massoneria distruggiamo le società di stampo segreto orientale perché stanno infiltrando l'occidente e stanno distruggendo l'economia occidentale d'accordo con le nostre società segrete occidentali chiaramente quindi distruggiamo tutto ma costruiamo cosa? questa è una domanda tu per esempio prima hai parlato del club di Budapest ti rifai per esempio a Lazlo? sì ah ecco va bene questo è chiaro allora per me va bene sì sì ma ho usato quel termine lì perché un po' è molto in auge ma ovviamente non ho una buona non lo reputo una persona degna della mia stima proprio per il fatto che nel club di Roma nel club di Budapest ah ecco ah ok ho preinteso certo assolutamente la costruzione la parte costruence però dove la mettiamo cioè perché io posso essere d'accordo con te sulla Sokakakai però sì 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 perché io sto nella Sokakakai non perché sono bravi belli e buoni perché è un modo di fondere il buddismo che purtroppo è quello più efficace che c'è credo che la spiritualità sia importante per qualunque persona che sia buddista che sia induista che sia cristiana ma non ovviamente il cristianesimo del Vaticano quindi vabbè questa è una mia idea quindi guarda la parte costruence da parte tua dov'è com'è scusa la parte costruence cioè la parte costruzione ok certo la distruzione è la costruzione per espanderla propriamente prima bisogna abbattere tutti i vecchi paletti che ci tutte le vecchie sbarre che ci legavano alla prigione alla caverna platonica se prima non distruggiamo il concetto stesso di spiritualità che è stato distorto nel corso dei secoli non riusciamo a raggiungere un livello di comprensione efficace per espandere la nostra mente Buddha è stato uno dei più grandi distruttori della storia di tutti i tempi perché ha distrutto direttamente la matrix attraverso determinati concetti determinate memi che ha propagato attraverso il suo discepolato il buddismo nel momento in cui crea aggregazione sta andando contro determinati concetti buddistici il Buddha fondamentalmente qual era lo scopo l'insegnamento del Buddha di raggiungere l'assoluta consapevolezza possiamo chiamare nirvana possiamo usare qualsiasi altro termine ma è espandere la propria mente l'espansione della propria mente non ha bisogno di aggregazione è un viaggio all'interno di sé non insieme a delle altre persone è un'esplorazione dentro di sé è un salto quantico nel nel conoscere la propria mente come funziona di fatto per costruire qualcosa dobbiamo prima disgregare una mente aliena una mente barocca come usava il termine Castaneda una mente che non è la nostra mente noi siamo stati costruiti tutta la nostra la nostra forma mentis è stata costruita dalla società se noi impieghiamo determinati concetti anche presenti nelle attuali religioni e nell'attuale sistema chiamato spiritualità noi siamo ancora all'interno della matrix prima dobbiamo distruggere tutte queste questi memi queste associazioni di idee questi concetti che abbiamo dentro di noi che li consideriamo come veri come reali come assoluti se non distruggiamo e o se vogliamo non implementiamo con nuovi livelli di comprensione non andiamo a nessuna parte per ampliare nuovi livelli di comprensione espandere la nostra mente non c'è bisogno di nulla che di un concetto e farlo attecchire dentro di noi esplorarlo non c'è bisogno delle religioni io distruggo le religioni perché in qualche modo hanno la funzione di portare l'essere umano lontano da se stesso lontano dall'esplorazione della sua mente e per questo la mia parte distruttiva in realtà è la parte costruttiva perché sto lanciando un seme un meme e quel meme è semplicemente stai da solo hai determinati concetti ti arrivano determinate informazioni fa le tue esplorale comincia a conoscere come funziona la tua mente nel metodo Zenix parlo di questa cosa non c'è bisogno di leggere testi sacri o fare determinati mantra la cosa importante per comprendersi è vedere come funziona la nostra mente i meccanismi che scattano dentro di noi che ci portano a avere determinate emozioni e determinati pensieri è lì la grande matrix è lì che c'è una mente che non è la nostra mente una mente altrui che in qualche modo si è impossessata del nostro processo decisionale del nostro processo di ragionamento eccetera eccetera io sono un fautore del pensiero originale del pensiero creativo e per avere questo tipo di pensiero di facoltà c'è bisogno di solitudine c'è bisogno di introspezione la più grande religione la più grande spiritualità è l'introspezione perché Dio è dentro di noi non fuori di noi fuori c'è la matrix noi siamo Dio si può sintetizzare così? sì per certi versi sì anche se è stato usato in maniera adesso viene distorto in un determinato New Age specie con Ramta che è un po' il fulcro della New Age o dell'agnosi per le masse il punto più elevato ma anche più suddolo perché sì noi siamo Dio però non noi come personalità umana non noi come maschera sociale quel noi più profondo quel noi che è il tutto e per raggiungere quel noi dobbiamo diventare impersonali ed è la cosa il passo il grande passo che dobbiamo fare diventare impersonali abbattere l'ego e in qualche modo amplificarci all'interno in qualche modo il nostro piccolo ego si deve annichilire per far spazio all'essere qualsiasi cosa più abbiamo accesso a in qualche modo ci sentiamo parte del tutto o di spicchi del tutto un po' più grandi di quello che in questo momento pensiamo di essere siamo nella strada giusta perché stiamo espandendo la nostra individualità in una in uno abbiamo perso forse Riccardo mi senti no Paolo no abbiamo perso tutti e due mi sa c'è stato un piccolo problema forse vediamo se recuperiamo eccoci ci siamo persi un attimo Riccardo adesso recuperiamo anche Paolo comunque penso si fosse capito il senso del discorso mi senti no Riccardo si certo ok qui vedo dei simboli allora volevo chiederti hai detto una cosa di mantra dopo su Zenix volevo effettivamente poi affrontarlo non avremo tempo di farlo come vorrei magari poi nella prossima stagione faremo una segata anche solo su quello se vorrai quando hai detto non c'è bisogno di sapere i mantra se ho capito bene se ho interpretato bene nel senso che i mantra in modo un po' inconsapevole diciamo raggiungono lo scopo che diciamo che si potrebbe raggiungere uguale però conoscendo il meccanismo si diciamo che il mantra può velocizzare certi processi perché si rifà a un campo molto forte dipende poi dal mantra dipende dal gruppo dipende da una serie di fattori ci sono tante variabili però il problema è come ad esempio ho segnalato per il reiki che spesso ci sono dei simboli legati a determinati campi barra egregore cui il fedele non sa in realtà a chi appartengono ecco da mente individuale diventi una parte di una mente collettiva ma non nel senso di espansione della tua mente semplicemente diventi parte del branco ed è praticamente l'antitesi di quello che io considero la vera spiritualità allora leggiamo qualche domanda ne sono arrivate diverse allora Gianluca qual è il fine ultimo delle famiglie dell'aristocrazia nera che piani hanno per l'umanità hanno a che fare in qualche modo con entità aliene o extradimensionali sì assolutamente sì nel secondo volume dell'aristocrazia nera che è una trilogia tratterò questo tema e ci sarà la prefazione di John Lamblesch e la postfazione di Corrado Malanga io stimo molto Corrado e lo stimo ancora di più dopo che ho fatto io stesso ricerca in questo campo e ho fatto ipnosi clinica e sono arrivato bene o male alle medesime conclusioni di Corrado pertanto sì c'è una grossissima interferenza possiamo usare il termine che vogliamo alieni extradimensionali infradimensionali demoni eccetera eccetera non ha importanza l'etichetta c'è un qualcosa io lo chiamo campo campo mentale possiamo chiamarlo con tanti termini c'è un qualcosa che ci sta influenzando e questo qualcosa in realtà non è così potente come noi crediamo sia pertanto c'è c'è molta speranza in realtà nonostante l'oscurità di questo di questo periodo storico bene per me è musica per le mie orecchie allora andiamo avanti leggiamo 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 videogiochi che si riferisce Michael una cosa che hai detto prima potresti spiegare meglio come ci influenzerebbero sì i videogiochi allora innanzitutto il bombardamento luminoso dello schermo influisce molto sul cerebro umano la banda di frequenza con cui soprattutto delle tv digitali che lavorano con i 30 hertz che ci portano in uno stato beta molto alto pertanto uno stato che stressa il nostro sistema nervoso più il nostro sistema nervoso è stressato meno siamo in grado di ragionare meno siamo in grado di far funzionare le nostre reti orali questo bombardamento luminoso è il primo elemento dannoso all'interno del nostro equilibrio biologico cerebro cerebrale e biologico fisico del nostro corpo poi ci sono altri elementi importanti tenete conto che io sono un compositore e sono anche dentro al mondo anche dei videogiochi dei film perché in qualche modo lavoro in questo campo e i videogiochi vengono scelti vengono scelte determinate musiche alcune belle decisamente belle decisamente fatte bene ma spesso la scelta anche della musica è impiegata per stimolare ulteriormente il sistema nervoso centrale in alcune addirittura si impiegano anche voci nel senso testi i messaggi sono palesemente come dire funzionali per gli ingegneri sociali a volte chi creano questi giochi non lo fanno a livello consapevole sono parte di questo flusso di queste gregole di questi campi mentali legati ai potentati e altre volte semplicemente sono scelte economiche e a volte più c'è negatività nella propria scelta e più c'è un riscontro commerciale questo vale per tutto dai videogiochi ai libri a volte i libri primi in classifica sono delle grandi schifezze e libri veramente importanti e sono letti da pochissime persone in estrema sintesi ci sono c'è il bombardamento luminoso c'è l'uso l'impiego spesso subdolo delle frequenze acustiche l'impiego subliminale dei testi e le storyboard dei videogiochi sono spesso improntate sulla violenza sono improntate sulle serie di tematiche portate avanti dall'aristocrazia nera cioè violenza sesso tutti tutti quegli aspetti che da alcuni ricercatori sono stati definiti come arcontici effettivamente i videogiochi giochi di ruolo sono spesso basati sulla decadenza umana su questa società decadente e pertanto tutte queste cose sommate vanno a creare uno strumento utile per gli ingegneri sociali e per questo mi mi schiero contro i videogiochi poi si può giocare con moderazione ma bisogna fare attenzione perché dopo si sfocia in determinate problematiche neurologiche se si prosegue in maniera troppo massiva nell'uso dei videogiochi allora Giada chiede se hai partecipato alla sceneggiatura del film 6 giorni sulla terra di Venturi conosco il buon varo siamo amici no non ho partecipato alla sceneggiatura sono semplicemente stato invitato a alcuni take che sono stati messi dopo il film per approfondimenti sui temi del film però no non ho partecipato alla sceneggiatura forse nelle prossime parteciperò però non posso dire più di quello che ho detto Laura chiede cosa significa far collassare eventi su che basi filosofiche o teoriche o scientifiche basi le tue affermazioni e come recepisci le tue informazioni sì queste cose si basano su elementi prettamente scientifici mi baso sulla scuola di copenhagen io mi rifaccio alla fisica dei quanti mi rifaccio a tutto l'esperimento della doppia fenditura l'esperimento della scelta ritaldata tutta una serie di sperimentazioni fatte fin dagli anni 80 anche prima in realtà in cui si è dimostrato secondo i sacricrismi della scienza accademica che effettivamente il cervello umano e l'osservatore il cosiddetto effetto osservatore influenza le probabilità con cui una particella o un agglomerato di particelle vanno a entrano nel nostro continuo spazio temporale l'essere umano non solo l'essere umano perché anche questo lo fa anche l'animale gli animali probabilmente anche le piante sono in grado attraverso il semplice atto di osservazione di modificare le fluttuazioni quantistiche nel momento in cui l'essere umano attraverso la sua mente il suo cerebro è in grado di influenzare su base quantistica in realtà perché il cervello umano lavora su base quantistica non a caso quando parliamo di cerebro umano e le sue funzioni stiamo parlando sul metodo in misura degli angstrom che è lo stesso metodo in misura delle particelle subatomiche del mondo subatomico che è il mondo che va a costruire il mondo reale il mondo subatomico non è altro quello che Bohm definiva l'ordine implicito non è altro che la matrice occulta con cui si va a costruire questa matrice più grossolana che chiamiamo realtà fisica ma che in realtà fisica non è perché come ho parlato nel metodo Zenix in realtà la realtà umana la materia non esiste tutto è spirito tutto è energia la materia non è altro che una presa per il culo che ci è stato insegnato fin da bambini dicendoci che è solida perché è fisica in realtà attraverso la teoria dell'atomo che si studia nelle università che spiega che il 99,9% dell'atomo è costituito da vuoto il senso di solidità di realtà fisica dipende semplicemente dal fatto che è un effetto elettrostatico una repulsione elettrostatica dagli elettroni che ci dà la sensazione che l'oggetto sia solido ma in realtà non è solido semplicemente vivere sulla stessa banda di frequenza con cui vibra la nostra mano con cui vibra il nostro corpo ma siamo onde informatiche informative che si scontano con altre onde informatiche informative che all'apparenza sembrano entrambe fisiche ma sono fisiche solo per i nostri attuali modelli di comprensione della realtà modelli sociali ma non modelli scientifici perché i modelli scientifici ormai ci sono gli scienziati più evoluti diciamo così si sono resi conto che non solo la nostra realtà è un un agglomerato di onde elettromagnetiche che si costituiscono a campi ma la mente umana è il più grande generatore di eventi e di modellazione con cui gli eventi accadranno vi faccio un esempio io posso far accadere un evento fisico nel senso voglio far cadere la pena la prendo in mano e la faccio cadere ma ci sono delle modellazioni metamodellazioni della realtà molto più sottili che si creano attraverso l'energia mentale di un singolo pensiero che a volte confluisce con migliaia di altri pensieri umani che vanno a modificare proprio il modo con cui magari il soggetto che ha la responsabilità di fare una determinata scelta compirà in base alle pressioni di campo delle menti umane che in quel momento sta ricevendo è una cosa un po' complessa magari non è questa la sede per entrare mi sono già forse un po' troppo addentrato diciamo che la mente umana è in grado di influenzare gli eventi fisici perché in realtà non sono fisici dobbiamo tenere conto che il pensiero umano non è altro che un'onda elettromagnetica con vettore elettromagnetico perlomeno che lavora con bande di frequenza similari alle onde di frequenza che vanno a costituirsi gli oggetti pertanto il pensiero umano e gli oggetti presenti nella nostra realtà lavorano all'interno di un range di frequenza specifico che in qualche modo porta il pensiero umano ad essere materico o meglio la materia non è altro che pensiero umano poiché trattasi di bande di frequenza similari che interagiscono tra loro vi faccio un esempio specifico le persone con capacità extrasensoriale riescono a creare dei disturbi su apparecchiatura elettrica perché il loro campo è talmente forte che va a influenzare il campo dell'oggetto stesso e siccome i campi di un oggetto elettronico sono molto più sensibili rispetto al campo di un pezzo di legno di un albero si vede un maggior effetto un effetto più clattante ma in realtà questi effetti li possiamo fare e ricevere da qualsiasi cosa perché in qualche modo siamo collegati siamo un tutt'uno un flusso continuo di onde elettromagnetiche e non solo onde elettromagnetiche che in qualche modo vanno a costituire quello che definiamo realtà quello che io definisco Matrix Allora un altro paio di domande Isabella complimenti a Riccardo seguo sempre le tue ricerche sono d'accordo sul concetto di distruzione per la costruzione dopo tutto il lavoro del solve et coagula dell'alchimista che prima disgrega e poi unisce solo d'accordo a non appartenere ad alcun gruppo in quanto la strada è univoca e solitaria quello che mi chiedo è possibile che queste grego che lavorino solo ed esclusivamente per soldi e potere è possibile che non siano interessati o perseguano una forza spirituale a noi sconosciuta quella stessa forza che cerchiamo anche noi sì 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 io ho parlato per lo più di campi mentali di egregore negative in realtà ci sono anche quelle positive assolutamente sì diciamo che in questa realtà in realtà umana per lo più sono presenti quelle negative ma in realtà ci sono anche quelle positive bisogna in qualche modo entrare nel loro campo bisogna fare un lavoro di introspezione poi ci si può agganciare questo tipo di egregore che possono essere anche utili per un determinato percorso evolutivo ma bisogna essere a un certo livello di consapevolezza per non farsi ingannare per non impiegare questi flussi di coscienza più evoluta affinché non diventino stampelle affinché non ci portino a rallentare il nostro processo di evoluzione che è sempre personale ed è la nostra come dire è il nostro percorso non dobbiamo qualche modo quando cominciamo se io comincio a parlare di egregore campi mentali positivi la gente comincia a pensare ah vabbè io mi aggancio a quel campo mentale positivo ho risolti problemi mi aggancio all'angelo custodio di turno eccetera eccetera ma le cose non funzionano così se non hai un livello di consapevolezza tale da comprendere che tipo di livello evolutivo è quell'egregora lascia stare devi essere a un livello molto avanzato per lavorare con le egregore positive siccome l'essere umano all'interno di questa società sta in qualche modo bombardato costantemente da egregore negative difficilmente sarà in grado di agganciarsi egregore barra campi mentali di più alto ordine pertanto il mio consiglio è di estranearsi da tutto da tutti di non farsi viaggi con la mente la persona crede di agganciarsi con l'alieno di turno col maestro asceso di turno eccetera eccetera il viaggio deve essere fatto in solitaria la scalata verso la comprensione di noi stessi va fatto in solitaria è l'unico è il modo più sicuro per non farsi bloccare per non farsi pigliare per il culo da cose che hanno il compito o il desiderio di rallentare il nostro processo degli svegli l'ultima cosa che ti chiedo è appunto su Zenix se cioè al di là della consapevolezza di cui dicevi adesso no? in questo modello di realtà cioè è possibile per ognuno di noi diciamo testare questo modello nel senso di dire ovviamente immagino debbano essere regolo può dire no voglio andare sulla luna eccetera però diciamo per avere una come qualcuno sta chiedendo anche nel gruppo c'è un risvolto pratico di questi concetti si può che ne so tentare di generare un evento attraverso questo modello e vedere se riusciamo a crearlo a programmarlo come dici tu assolutamente sì io nel mio metodo consiglio sempre di iniziare dalle piccole cose perché è un discorso di energia il cervello umano è in grado di collassare sicuramente particelle subatomiche anche in grossa misura però arriva fino a un certo punto perché il pensiero umano prima ho parlato che è un'onda elettromagnetica ha comunque lavoro su un vettore di ampiezza cioè su una quantità di energia in grado di far scuotere il codice sorgente con cui la realtà si struttura noi se non lavoriamo per espandere aumentare il nostro livello energetico non possiamo modellare la realtà su cose di un certo livello che superano la nostra quantità di energia ordinaria beh vai pertanto bisogna cominciare con le piccole cose e giustamente Gurdjieff insegnava ai suoi allievi ad aumentare la quantità di energia in questo in realtà anche Castaneda ne parla Castaneda è una scuola un po' ambigua perché presenta elementi negativi con elementi positivi ma per ciò che concerne l'aspetto dell'energia aveva assolutamente ragione bisogna come Gurdjieff bisogna accumularla bisogna saper non sprecarla in cose futili perché abbiamo accesso a un certo livello di energia che è basato al nostro livello di mente e dobbiamo impiegarla al meglio quel quantum di energia che giornalmente siamo in grado di emettere si comincia a modellare la realtà con piccole cose poi attraverso una determinata respirazione una determinata alimentazione un determinato un retto pensiero per usare il termine del Buddha si incomincia ad avere accesso a serbatoi energetici di più alto chiamiamolo quantità barra qualità da lì in poi si può incominciare a lavorare a modificare la realtà su cose un po' più grandi ma è un percorso che va fatto step by step bisogna cominciare con le piccole cose avere successo perché se incominci dalle grandi cose e poi non riesci a farle in qualche modo invalidi questo concetto pensi che non sia vero è diventata la tua verità questa verità in realtà è il più grande autoinganno che ti fai pertanto bisogna dare informazioni correttamente e spiegare a chi vuole in qualche modo lavorare con queste cose di incominciare con piccole piccole cose e far tesoro di questi piccoli successi in qualche modo dobbiamo creare una rete neurale in cui c'è il successo in cui ci rendiamo conto sappiamo che riusciamo a modificare degli eventi nel nostro futuro nel momento in cui si crea questa rete neurale poi la espandiamo e attraverso l'energia è un giusto utilizzo del nostro laser perché il pensiero umano è una sorta di laser impiegato bene con cui andiamo a scrivere nella lastra fotografica della nostra realtà qualcosa di un po' più grande ma si procede step by step pertanto bisogna sapere gestire l'energia e ancora prima dobbiamo saper gestire la nostra mente e i nostri pensieri per modellare la realtà c'è bisogno di saper concentrare il proprio flusso di pensiero in un singolo frame in uno singolo hologramma che corrisponde all'obiettivo che vogliamo raggiungere e questa non è una cosa semplice nel buddismo si impiegano decenni per riuscire a raggiungere un certo grado di controllo dell'ologramma interno e una volta che abbiamo questo controllo riusciamo a fare grandi cose ma nell'immediato dobbiamo allenarci a tenere l'immagine mentale del nostro obiettivo nel corso della giornata per qualche secondo incominciamo con qualche secondo a ricordarci dell'obiettivo che vogliamo raggiungere a vederlo nella nostra mente già realizzato nell'immediato futuro si comincia da questi piccoli passi allora Zenix ricordiamo che era un altro tuo libro è un modello più che altro possiamo definire così un insieme di conoscenze che appunto dalle quali poi si ricava questo modello che tu chiami anche di coscienza integrata allora io ti ringrazio Riccardo di essere stato a lungo con noi e credo che abbiamo risposto alle domande che sono arrivate se vuoi aggiungere qualcosa diciamo che ho già dato non posso guardarmi troppo Riccardo grazie grazie allora buon proseguimento buonanotte ciao Riccardo ciao ciao Paolo ciao